Le performanti Triumph Scrambler 1200 XC e XE, leader del segmento per specifiche tecniche, stile e cura del dettaglio, si presentano in versione 2021 con propulsore omologato Euro 5 e minori emissioni, senza perdere nulla in termini di prestazioni, coppia entusiasmante e soundtrack del doppio terminale di scarico. Ma la gamma 2021 prevede anche un'esclusiva ed emozionante edizione limitata dedicata alla star del cinema più iconica e celebrata per la sua genuina passione per le due ruote, la nuova Scrambler 1200 Steve McQueen Edition. La moto viene venduta con certificato di autenticità, firmato dal CIO di Triumph Motorcycle Nick Bluer e da Chad McQueen, il figlio di Steve. I prezzi per il mercato italiano sono di 14.800 Euro per la Scrambler 1200 XC 2021, 15.800 Euro per la Scrambler 1200 XE 2021, mentre per avere la Scrambler 1200 Steve McQueen Edition bisogna aggiungere altre 800 Euro. In tutti i casi i prezzi sono franco concessionario. Tutte queste moto saranno disponibili a partire dal mese di giugno.